Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la For Gran Torino di Starsky Hatch. Andiamo subito a vedere quello che è arrivato. Abbiamo il numero 37, 38 e il 39. Continuiamo stranamente a ricevere soltanto tre uscite invece di quattro come le altre collezioni che sto facendo. Il modello è in scala 1 a 8, l'edizione è Hatchett. Andiamo subito a dare un'occhiata all'interno sia per vedere i pezzi ricevuti che, se qualcuno ne avesse piacere, poter dare lettura ai testi, oltre che guardare le immagini. Vediamo, sto cercando di adottare questo nuovo metodo. Invece di fare il video della sessione di montaggio, andando ad includere anche la possibilità di poter leggere, faccio tutto nel video dell'unboxing. Quindi andiamo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. intanto ringrazio tutti i miei iscritti, grazie ragazzi, grazie perché continuate con le vostre visualizzazioni a dare vita al canale. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili e servizi. e qui vi dico buona lettura. Per chi avesse anche piacere di farsi montare da me il modello, mi contatti. Aspettate, ho smesso di parlare perché mi sono ricordato che se parlo mentre cambio l'ingrandimento dell'inquadratura, mi salta la voce. Stavo dicendo che se qualcuno ha piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti pure privatamente. Grazie. Per coloro invece i quali ancora non si sono iscritti al canale, ma hanno piacere di farlo. Ragazzi, iscrivetevi, attivate pure la campanella così sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli. Queste sono le fasi di montaggio che poi andremo a vedere bene nel dettaglio anche se è un ripetersi delle altre tre ruote, anzi chiedo scusa, due ruote che abbiamo già montato. Vi ho detto tre ruote perché in realtà ne ho montate già tre e questa sarà la quarta perché ho chiesto la sostituzione di una in quanto il copertone aveva una crepa. Ecco perché mi è venuto dirvi ne abbiamo montate già tre. In realtà sono due e questa è la terza. Ecco qua. Andiamo subito quindi a vedere il contenuto. Alla fine poi di questo video, prima di salutarci, se avete piacere rimanete ancora con me perché andrò a fare una rappresentazione di tutto quello che è stato montato fino al numero 36. metallo, 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 plastica, una serie di viti e plastica. Questo è il cerchione, questa è la parte interna del cerchione. Questo è il coperchio del tamburo del freno. Questi sono i bulloni della ruota, ce ne danno in più di ricambio qualora ne danneggiassimo qualcuno. E poi una serie di viti PM dove mi rivolgo ovviamente a quelli che mi vedono per la prima volta. La M finale, la lettera, indica metallo. Qui io mi avvalgo sempre di un lubrificante per andarmi a creare i filetti. Anche sempre rivolgendomi alle persone nuove che spero che ce ne siano sempre di più. Il canale di Michele è un canale che non si occupa del solo montaggio ma cerca di aiutare le persone che hanno più difficoltà appunto nel montare i modellini per evitare loro che possano fare danno o un montaggio non corretto. Adesso passiamo subito al numero 38. Se avete piacere iscrivetevi anche sui gruppi che ho su Facebook. Ce n'è uno per ogni modellino che sto montando. Ecco qui, numero 38. seguitemi anche perché seguiranno i tre video di montaggio di questi ultimi tre numeri ricevuti. qui andremo a completare la ruota posteriore sinistra che poi in realtà devo capire come mai specificano la posizione in questo caso sinistra in quanto credo che questa possa anche essere montata dalla parte destra. Comunque... ecco qui... dedico un po' più di tempo adesso nel video unboxing facendovi vedere le immagini lentamente così poi cercherò di fare dei video più concisi e dedicati esclusivamente al montaggio poi quando farò i video successivi dove andremo assemblare tutta la parte all'interno troviamo il pneumatico un attimo che voglio vedere una cosa bene... è molto più largo di quello anteriore come giusto che sia ecco ho voluto guardare questo battistrada è veramente bello per chi non lo sapesse questa è una piccola curiosità magari che avete e che i copertoni li stanno facendo ormai tutti rigidi proprio perché una volta quando si facevano più morbidi erano carini da toccare tutto quello che volete però quando poi stavano degli anni con il peso stesso del modello si appiattivano invece questo così non dovrebbe accadere anche se come ho detto già in qualche video ricordatevi che il modello non va mai appoggiato sulle ruote va sempre tenuto sospeso fate passare un foglio di carta sotto e deve toccare il pneumatico ma deve passare così non si vede che è rialzato ma non tocca il pneumatico questo se volete farlo è non indispensabile io usavo fare così con i copertoni che si usavano prima come vi ho appena detto quelli morbidi ecco probabilmente per questi non c'è alcun problema anche se li lasciamo così però tenete sempre presente che il modello supera i 5 kg di peso quindi è un peso importante all'interno abbiamo lo stemma eccolo qui guardate che bellezza questo è questa è la rondella che poi servirà da mettere per la battuta della vite che terraferma la ruota al mozzo quindi abbiamo due serie di viti tutte e due da avvitare nel metallo gm e dm e poi questo il coprimozzo eccolo qui stavo guardando il punto dell'iniezione sempre questi difetti fanno anche di qua e vabbè che dobbiamo fare via anche questo passiamo all'ultimo fascicolo che il 39 ecco qua qui c'è veramente da leggere e mi fa piacere perché è importante anche leggere i contenuti dei fascicoli non chiudeteli non lasciateli chiusi così senza neanche dare lettura è un consiglio che vi do guardate che meraviglia questa è la ISO Grifo bellissima avevo il modellino io nel 72 questa è stata prodotta dal 68 in avanti bellissima ecco qui questo numero ci viene dato ci viene data la sezione inferiore del serbatoio della benzina qui poi sicuramente all'interno ci sarà il pacco batterie eccolo qua che poi riceveremo nell'uscita numero 40 che andrà collocato all'interno del serbatoio controllatevi sempre tutti i pezzi non lasciate non fate l'errore di conservare tutte le collezioni chiuse nei blister per poi andarle a montare alla fine perché ragazzi fidatevi diversi pezzi sono fallati perché non esiste un controllo qualità vi sostituiscono il pezzo ma non esiste assolutamente un controllo qualità per cui voi andate magari dopo mesi che avete ricevuto quel numero a montarlo il numero che avete è fallato e non vi viene più sostituito fate attenzione poi dovete pagarlo nuovamente quindi io vi consiglio quanto meno di aprire ogni fascicolo controllare tutto e poi se volete monterete tutto alla fine ma controllate tutto anche se ripeto lo sconsiglio perché anche un pezzo sano montandolo si può danneggiare poi come fate a reperirlo va bene adesso questo video dell'unboxing è terminato metto pausa prendo tutto quello che è stato montato fino al numero 36 e ci vediamo dopo per i saluti ed eccoci qua e non riesco più a farlo stare tutto nell'immagine nell'inquadratura è veramente grande questo modellino guardate che spettacolo parafango anteriore sinistro la scritta Gran Torino in rilievo la freccia che poi sarà funzionante grazie ad un led che verrà collocato all'interno il lampeggiante non è funzionante ma guardate la plastica che hanno usato per riprodurlo sembra acceso io posso proprio dire che sono molto soddisfatto di questo modello questi sono i due tamburi che andranno messi poi all'interno tra il mozzo e la ruota il musetto guardate la targa io cerco di farvi vedere il particolare 1976 California ed è in metallo le luci saranno tutte funzionanti ecco qui dove poi andranno inseriti i led questa è in metallo tutto quello che vedete rosso è metallo e guardate anche qui la scritta Ford che bella bellissimo e poi il motore il telaio la batteria sembra vera che bella albero di trasmissione che ruota ammortizzatori posteriori gli anteriori lavorano molto male ma ho già spiegato ampiamente la motivazione che purtroppo ha causato questo non sono le molle troppo rigide sì la molla è eccessivamente rigida per il modello ma non è quella che determina un malfunzionamento del sistema di ammortizzazione anteriore ma è quello che vi ho già spiegato poi vi avevo sottolineato e poi ci salutiamo dopo questo vi avevo sottolineato nei primi video quando sono arrivato a montare i braccetti qui della sospensione dove se non ricordo male andava inserita una vite DM sul mozzo che era possibile che si potesse strappare il metallo e come andare ad intervenire poi farò un video dedicato a questo e vi farò appunto vedere ok ragazzi quindi state tranquilli non so se ci verrà sostituita la molla anteriore con una più morbida ma ripeto questo non migliorerà il sistema di ammortizzatori più semplicemente avrà meno spinta sul mozzo della vite quella DM e sarà più facile che non si strappi mi è venuto in mente anche che devo devo mi è stato chiesto lo faccio volentieri di salutare Michele ciao Michele bene ragazzi a questo punto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi al canale di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato date un'occhiata anche alla playlist e se avete piacere condividete i miei video nei gruppi dedicati grazie del vostro tempo un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari ciao